Dal Brancaccio a Nocera Inferiore è il tema del primo congresso nocerino di sinistra italiana che si terrà domani presso il centro di quartiere di Bialoria. È proprio dall'Assemblea Nazionale Democrazia ed Uguaglianza tenutasi al teatro Brancaccio di Roma lo scorso 18 giugno che Sinistra Italiana vuole continuare la sua azione corale e politica sui territori. Verrà messa in risalto la linea politica del partito in città con una inevitabile riflessione sulla vicenda giudiziaria che ha scosso Nocera Inferiore. Io personalmente non credo che le ideologie possano morire perché gli esseri umani hanno idee il mio cane è intelligente ma non ha idee quindi chi dice che le ideologie sono morte lo dice perché deve trovare una scusa perché le cose non si devono fare più ma io credo che i principi costituzionali, tutto ciò che la sinistra nel Novecento ha fatto in questa nazione, in questo paese, l'emancipazione delle classi meno ambiente sono avvenute perché c'era quella costituzione e perché si lottava. Quando la sinistra ha cominciato a tradire quella situazione di valori man mano ci dividiamo sempre di più, dividiamo sempre forze piccole e minori. Io mi agro che questa nuova idea, questo nuovo progetto di Sinistra Italiana perché io credo che un partito organizzato deve esistere. Anche in questi giorni abbiamo assistito sul nostro territorio a queste cose che sono successe ma non c'è stata la dichiarazione di un partito politico, sono i singoli che appaiono. Noi dobbiamo smetterla di dire io, dobbiamo ricominciare a dire noi e insieme noi dobbiamo cominciare a provare a cambiare anche piccole cose a partire dai nostri territori. Per rompere questo schema di ragionamento dobbiamo agire come dicevo prima tra l'altro noi alle elezioni comunali a Nocera e Inferiore dove Sinistra Italiana, anche se non aveva ancora un circolo costituito ma le tessere erano già state fatte, c'era stata fatta la connessione nazionale l'abbiamo appoggiata Alfonso Schiavo, all'inizio c'era l'idea di fare una lista di sinistra poi abbiamo capito proprio dagli input che ci venivano anche dal nazionale che ci dovevamo aprire a queste coalizioni civiche progressiste. Io credo che come è successo a Nocera, anche in tutta Italia oggi sia arrivato il momento di mettere insieme le persone vere in carne e osso su problemi veri a partire dalle esigenze che sono singole perché possono sembrare che io posso fare la battaglia contro la fornera perché non vado più in pensione ma ci vado a 67 anni. Ma non è così, questo è su tutto, è su tutto. Abbiamo sempre meno diritti, sempre meno garanzia e i doveri mi sembra che alla fine li devono fare sempre gli stessi e alla fine i poveri siamo arrivati al punto che hanno anche vergogna di dire che sono poveri.